Sì, siamo arrivati, siamo arrivati, stai facendo l'ospedale, stai attaccando, stai attaccando, una delle creative, bubi, cominciano, siamo arrivati, todo, gli amici, i carri, uomo, lonto, i carri, ci siamo arrivati, il lavoro, la ricerca, inizia, non è stato una ricerca, inizia, attenzione, lì, 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 la ricerca, inizia, Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.